No, aspetta, non è come pensi. No, 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 è tutto un malinteso, devi credermi, ascolta, io... Devo dirti una cosa e devi ascoltarmi quando ti parlo! Si piacciono i Krabby Patty, di la verità, Squitty. È vero! Sì, sì, è vero, lo devo ammettere, è vero! Io vado vanno per i Krabby Patty, li adoro! Lo sapevo fin dall'inizio, Squitty, nessuno può resistere al Krabby Patty. Squitty, quanti ne stai mangiando, Squitty? Non puoi mangiare tutti quei patti una volta sola, fermati! Ma cosa vuoi che mi succeda? Hai paura che possa esplodere? No, peggio, prima ti verrà la cellulite sulle cosce! Sulle cosce? E poi esploderai! Ricordo anch'io la prima volta che ho mangiato un Krabby Patty!